Se la Roma vince in 10 anche senza Totti questo è davvero il suo campionato. La vittoria per 1 a 0 con il gol di Bradley nel finale sul campo di un Udinese che non perdeva in casa da tempo immemorabile è il segno che questo campionato può essere davvero giallorosso. 27 sono i punti raccolti in 9 partite soprattutto uno soltanto i gol subiti in questo campionato che è un record davvero strepitoso. Un record ulteriore assoluto la Roma lo potrebbe segnare se riuscisse a battere il Chievo nel prossimo turno di campionato e arriverebbe a 10 vittorie consecutive. Nessuno ci è mai riuscito. A 9 era arrivata la Juve di Cappello nel 2006 che naturalmente vinse lo scudetto. Questa volta neppure l'espulsione di Maicon e il fatto di essere rimasti in 10 contro un Udinese che peraltro giocava un buon calcio molto veloce e aggressivo. Hanno portato alla sconfitta della Roma. Anzi la Roma è riuscita nel finale a far suo il punteggio e si è riproposto il balletto festoso e gioioso davanti ai tifosi della curva che erano arrivati fino a Udine a sostenere questa squadra davvero incredibile. Dietro la Roma adesso 22 punti rimangono Juventus e Napoli. Entrambe le squadre hanno vinto. La Juve si è riscattata dalla difficile situazione da cui usciva la sconfitta in rimonta contro la Fiorentina e poi il KO contro il Real Madrid in Champions. La Juve ha vinto 2-0 contro il Genoa con i gol di Vidale e di Tevez. Molto bella tra l'altro la realizzazione in area del attaccante bianconero che è riuscito a dribblare secco due difensori e poi a infilare la porta. Sul tutto però alleggia la polemica a volte astiosa anche di Conte che si scaglia contro la stampa Rea secondo lui di speculare sui dissidi che sarebbero in atto tra l'allenatore bianconero e il direttore generale Marotta. In realtà si tratta di punti di vista diversi sul fronte del mercato e su quanto o meno la squadra bianconera si sia rinforzata. Sono vecchie polemiche, sono riaffiorate naturalmente alle prime sconfitte e Conte non manca di scaricare sulla stampa ogni responsabilità quando sicuramente molte delle dichiarazioni provengono anche da lui. Per quanto riguarda il Napoli un successo per 2-0, due calci di rigore entrambi trasformati da Higuain hanno dato la vittoria sul Torino e mantenuto in linea di galleggiamento la squadra di Benites che ha messo soprattutto in vetrina un giovane belga 26enne Mertens autore anche delle azioni che hanno portato poi ai calci di rigore. Ex del PSV che ha mostrato grandi qualità sia negli inserimenti sia nella padronanza del gioco a centrocampo, dunque una freccia in più all'arco del Napoli. Vittorie anche per l'Inter e la Fiorentina che ci sono portati a quota 18, i nerazzurri hanno battuto 4-2 il Verona, una partita contrassegnata da molte emozioni ma con i nerazzurri sempre sicuri di sé a dispetto del punteggio che variava in continuazione. La Fiorentina ha battuto invece in rimonta, è riuscita a vincere in rimonta contro il Chievo e qui è stato fondamentale un giocatore che si sta imponendo per le sue qualità, il dinamismo e anche il senso del gol che è quadrado. Davvero straordinario per la potenza fisica, per i riflessi, per l'elasticità e anche la precisione con cui adesso si catapulta in zona gol. Una Fiorentina che fa paura, come fa paura un po' questo Milan e i suoi tifosi, i rossoneri sono stati sconfitti per 3-2 a Parma, Allegri ha messo Balotelli in panchina, è riuscito lo stesso a riaquantare un risultato momentaneo 2-2 ma poi nel finale il Parma è riuscito a imporsi. Dunque un Milan che è sempre a camminare sull'orlo della crisi e forse questo annunciato divorzio tra Berlusconi e Allegri doveva consumarsi prima di oggi e invece va avanti con queste lente tappe nel corso di una stagione difficile.